No, ma non ci sono E proviamo Poi sotto cosa, bro? Personaggio Vai Il personaggio è uno youtuber? Probabilmente È femmina, Chris? No Cioè, tu dici che sei femmina? No, 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 bro, mi hai detto Ha a che fare con il mondo dei videogiochi? No No È nato in Italia? No No Esiste davvero? Sì, è qua con me È diventato famoso grazie al calcio? No, bro, dai Probabilmente Gioca ancora a calcio? Sì Sì Hai giocato nella Juventus? No, sfortunatamente no Sei un astronomo? Non so cosa sia astronomo, bro Allora, no? Hai mai sfondato un tavolo? Probabilmente Probabilmente, bro Gioca in Italia? No Ha scritto cometa? Hai scritto cometa, Chris? No, bro, non ho scritto cometa nemmeno Vizia sua figlia? No Ha la pelle scura? No È membro di una band, no? È fico? Non lo so, bro, no Sì, sì, dobbiamo farlo dire alla chat Chat, Chris è fico? Sì, sì È nato in Argentina? No, mi spiace, bro Hai un fratello, Chris, più grande? No Attenzione Ci sto pensando, eh Hai giocato nel Real, Chris? No, bro Eh, ma tu quella cosa del calcio l'hai mai dato fuori posto Fai parte dei videogiochi Pokémon, no? No, assolutamente no Sei un attaccante, Chris? Sì, però, cioè Sì? Vivi in Inghilterra? No È biondo? Probabilmente Cioè, non sono castano in realtà È violento? Probabilmente, bro Hai giocato in una società di calcio italiana, bro No, bro Sei Holland Sei Erling Bro Holland No, bro È un po' però, ti assomiglie Eh, magari Magari un po' di anni fa ero un po' erocchio così Sei la ricetta di TikTok, no? Hai perso due dita? No Prequettate la stessa scuola, no? Giochi per una società sportiva? No, no Mi sa che bisogna togliere questa cosa No, perché sì? È la verità Sei spagnolo, Chris? No Hai vinto un premio Nobel Per la pace, Chris? Non credo È tifoso dei Capitals? Probabilmente Giochi nel Barça? No No Sei stato in Brasile, no? È europeo? Mi scordi È noto per le imitazioni? No No Hai a che fare con la Francia? No, bro Vivi in Olanda, no? Famoso grazie a un film? No Fa parte di una squadra? Sì Sì Sei portoghese? No No Hai fatto qualche scoperta? No Non è che fa con la mia Sei uno sportivo? Sì Sei un assassino, Chris? No È meglio mettere di no No Cavalchi un drago, Chris? Drago? No Fai parte delle Spice Girls No Cazzo Dove sta mirando? Sei emigrato a Milano? Per un periodo? Sì Per un periodo Metti un non lo so Ecco Parla in spagnolo? Probabilmente Vabbè Alfred Finbo Eh, quasi, eh Mi sa che si sta avvicinando un sacco, bro Proviamo l'ultimo, altrimenti la rifacciamo seria Hai partecipato ai mondiali, no? Hai lavorato per Disney, no? Ha a che fare con gli isolatori elettrici, Chris? Eh, ho fatto l'elettricista Però non ho L'origine spagnole, no? L'edanese, no? Ti sei divertito a Luca Comics del 2015, Chris? Non ci sono stato, bro Fai parte di Zelda, no? Hai a che fare con l'Atletico Madrid, no? Indossa un kimono, no? Hai a che fare con un hotel? No, bro Fai video di mercoledì e venerdì? Probabilmente Probabilmente, bro Sei albanese, è ship, eh? Oh mio, no Non hai giocato ai mondiali? Non sei piccolo Ciao, Paolo Cano Sei zio, Chris? Sono, sono zio No, non sono zio Non c'ho fratelli Hai passato con Broke Lim here, Tess? No, fra uno, no La minima idea di cosa sia Hai vissuto in Italia, sì? Fai parte di un videogioco, no? Hai origini giapponesi, no? Non sei di Hearthstone? Non hai un fratello? Avevi una moglie, Chris? No Non giochi nella Lazio È italiano, no? Non giochi in Serie A Hai più di 26 anni? Sì Hai attualmente più di 30 anni? Sì Si è ritirato? No È Michael Mispunt Ma no, bro Ma l'hai sballato quella cosa del calcio Ok, vediamo se ti riusciamo a trovare Personaggio Vive in Italia? No Sei un cantante? Eh sì Non lo so, non lo so Metti non lo so È parte di una band? No 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 Hai mai fumato? Sì Hai quattro fratelli? No È un cantante rap? Probabilmente Parli in italiano, sì? Sei un boss del crimine? No, assolutamente Sei ossessionato dal sesso? Probabilmente È svizzero? Sì Hai cantato Burger King? No, no, assolutamente no È legato al colore giallo? No No Vive con i suoi amici? No Sei basso, no? Passami su Twitch TV? Sì Eeeh Ma perché c'è scritto manager di Manny Fresh? Eh perché l'Inter ti ha ricordato come manager di Manny Fresh Cazzo Incredibile Indovinato 230 volte Chris, eh? Ah, minchia Sono in gioco Cioè la gente li diverte Cercare Grazie Fede Prova a fare L'ultimo Prova a fare anche Grazie Fede Vai Nazione Italiana Sì Ha a che fare con la musica? Sì È un rapper? No Ha più di 35 anni? No Ha parte di Fio Trenamici? No Fa parte del video agitiano? Ma di Roma? No Non lo so No Sì No Sì No No Ha i capelli ricci anche? No No Fa parte di una coppia? Probabilmente Lavora in coppia? Sì Ha a che fare con Maometto? No Ha una regola, no? Pubblicato un video con la propria ragazza, no? Grazie Cazia e Pongole Sette anni insieme È sposato con un uomo, no? Usa un cappello da cowboy, no? No No Non credo Suona l'armonica, no? È sull'Italia, no? Fa parte di Gomorra, no? No È noto per la musica, no? Ha aggiunto più di un milione di iscritti, no? Porta gli occhiali, sì No Probabilmente No È considerato un santo anche, Chris? No No, no Via Vicenza, no? È di Torino? Sì Sì E poi dopo è un cavallo No, sì Eccolo Oh Oh Sì 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 Vabbè, ma le descrizioni qua sono peggio del peggio Io mi nato 1500 volte Sono peggio del peggio Ma voglio provare, allora Chi è uno? Patrizio? No, chi è uno che potremmo fare, Chris? O Patrizio o Max Power Dov'è Patrizio? Dov'è Patrizio? Patrizio È noto per la musica, Patrizio? No, è uno youtuber? Sì No 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 Patrizio di un gioco? No No Ha a che fare con vari? No Ha già un'agenzia investigativa? Non lo so Porta gli occhiali? No È un paziente in pediatria, no? È fidanzo con un youtuber? No Ha raggiunto più di unione? No Ok Che domanda è? Perché lui sa che occhiali tu Scusa Che ne so, appunto Ha fatto gomma È fatto di gomma, no? Non vuole vendicarsi? Non lo so Chi è? È un bairo youtuber No Viene da Sicilia, no? Non ha a che fare con la chimica? Ha una figlia, no? No No Ciao Adrian No Ha una maschera, no? No Fa live su Twitch, sì? No No È pelato? No Adesso Vive con un cane, sì? No 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 Hai capelli lunghi, no? Personaggio Probabilmente Di a Bologna, no? Sì No No Eccolo Patrizio Federosi Madonna Ha un tatuaggio, non lo so Grazie Oh Grazie Duller No No È sposato, no? Vive in Emilia, sì? Si è detto presente No Lavora nel mondo del fitness, no? Ma che cazzo Ne so Ma no No Non la zecca Non la zecca Non la zecca No Non ha a che fare con Gesù Ah, che non so se sia nata a Lecce Si Sì Wizza Vabbè Vabbè No No Non No 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 Grazie a tutti